Ciao ragazzi, ciao, tutto bene? Come state? Perché parlo così? Perché la Fiorentina sta diventando sempre più americana, no? Con Tesman, yeah! Tesman, come on! Close to Fiorentina! Here we go! Ciao ragazzi, si sta per acquistare questo giocatore dal Venezia, tutti ne parlano un gran bene, ma oltre a lui poi c'è nell'aria anche McKinney, McKinney, da che io mi ricordo una cosa che mi fa ridere, in realtà, cioè sorridere, e cinque anni fa quando ci acquistarono, Comiso disse, voglio una Fiorentina tutta italiana, adesso va a prendere tutti gli americani, a me sta cosa comincia a gasarmi, no? A parte gli scherzi, comunque, che dire, allora, di questo Tesman, io è un po' che non faccio video, un po' perché dalla prossima settimana ne vedrete molti di più, tra l'altro vi devo svelare la meta gasante di quest'estate, perché io la prima partita del campionato la vedrò in Colombia, io andiamo in Colombia 10 giorni, dal 13 al 23, più o meno 24, e quindi la prima partita di Serie A, con il Parma, la vedrò direttamente dalla America Latina, dalla Locca Latina, speravo di beccarci anche Rios, ma quella è stata solo una voce di fantamercato. Tra l'altro, visto che, ecco, ne approfittiamo anche per il momento sponsor, visto che andate in vacanza adesso, e dalla prossima settimana vi ho promesso molti più video perché sarò più libero, non vi dimenticate i NordVPN, perché io, come farò a vedere la Fiorentina da così lontano, collegandomi proprio a NordVPN, trovate tutti i link, appunto, in descrizione, è comodissimo. Poi c'è la nuova funzione Selly, che vi permette anche di acquistare delle eSIM, cioè delle SIM virtuali, senza dover andare nei negozietti, stare dietro alla tariffa, insomma, e c'è tutto l'elenco di tariffe gigabyte, insomma, disponibili, proprio per chi, come me, ha bisogno di giga per collegarsi. Dicevo, in questo momento ho avuto diversi impegni tra lavoro, tra YouTuber Summer Cup, non so se avete già visto il primo video, ma è stato gasante contro la Lazio, e senza spoilerarvi niente, senza spoilerarvi niente, vi ho trovato già il nuovo salva schermo dell'estate, cioè senza spoilerarvi niente. Comunque, ragazzi, allora, torniamo a noi, torniamo alla ciccia, torniamo alla Fiorentina americana, Tesman ormai sembra veramente a un passo, tutti impazziti per questo Tesman, perché lo voleva anche l'Inter, di base è quello il motivo, perché è un giocatore di Serie B, è un giocatore che non ha neanche un minuto in Serie A, metto le mani avanti, io non lo conosco bene, e quindi non lo voglio giudicare, né gli voglio tagliare le gambe subito, però, insomma, per esempio, mi viene in mente, quando io ipotizzavo nel calciomercato che farei acquisti come Bernabè, mi viene in mente, oppure uno tra le ultime voci, sentite, di Casadei, del Chelsea, ecco, tutti imputavano il fatto che questi non avessero fatto neanche un minuto in Serie A, e Tesman, invece, proprio perché l'Inter era interessato, allora, tutti lo vogliano, speriamo di prenderlo. A questi punti ci spero anch'io, penso, ormai sia veramente ai dettagli, un acquisto che serve, sicuramente, anche solo in termini numerici, perché tra pochi giorni inizia il calciomercato, e noi si sta ancora a parlare di portieri, di forze attaccanti, ragazzi, dimenticandoci del ruolo più importante, forse, del calcio in generale, che è il centrocampo, e che negli ultimi anni, tra l'altro, è sempre andato a peggiorare, da Torreira in giù, quindi io ci farei un focus importante. Poi, importante è anche il nuovo possibile portiere, si parla appunto di De Gea, ragazzi, De Gea ha questa moglie qua, che si chiama Edurne, cioè io sono un suo fanboy dai tempi della Spagna, perché chi sta in Spagna o vede qualche programma americano saprà benissimo che Edurne, oltre a una cantante, è anche tipo la conduttrice di Spagna Got Talent, insomma, oltre ad essere bellissima, è bravissima, e io sono un suo bimbo clamoroso, quindi se dovesse venire De Gea, Edurne a Firenze, per me sarebbe, che dire, che dire, ma non verrà perché c'è un forte ridimensionamento, in realtà, degli stipendi a De Gea, se non sbaglio a guadagna sui 7 milioni, 5 milioni, però il portiere sì, è un ruolo da tenere d'occhio, è un ruolo da sistemare, credo che Palladino non sia neanche troppo contento dei portieri che ha a disposizione, però non è la priorità, la priorità in questo momento è rimpolpare il centrocampo, è arrivato Colpani, tutti felici per Colpani, sta arrivando Tesman, ma serve qualcun altro, secondo me serve ancora il colpo a centrocampo, perché McKennie, Tesman, Colpani, non sono il colpo del centrocampo, poi, se qui mi ci vai anche a linkare, mi viene in mente Colpani, una cessione, un'altra, l'ennesima cessione di Nico Gonzalez, è chiaro che io non posso essere soddisfatto in questo momento, sicuramente sono molto più rassicurato rispetto a due settimane fa dove c'era una calma piatta, però ragazzi, ancora, forse anche questo è il motivo per cui non ho fatto tanti video in questi giorni, siamo proprio su un filo, appesi a un filo, non si sa ancora quale sarà il vero nostro sviluppo, Io mi auguro innanzitutto che rimanca Nico Gonzalez per poter rinforzare il reparto offensivo, ma soprattutto che arrivino almeno due grossi nomi, e grossi nomi per quanto possono essere di talento, per quanto possono essere utili e giocatori interessanti, non sono né McKennie né tantomeno Tesman. Vediamo, vediamo, aspettiamo, purtroppo il tempo si stringe, guardando le altre squadre, grossomodo anche gli altri non stanno facendo tantissime cose, però c'è da dire che guardando per esempio la Roma, guardando il Napoli, guardando altre squadre, insomma loro almeno i punti focali della squadra l'hanno già stilati, noi ancora non abbiamo un undici titolare, e ancora non sappiamo quel che sarà di alcuni giovani molto interessanti, come Bianco, come Amatucci, che si sono aggregati alla prima squadra, in questo momento ragazzi l'unica certezza è Mandragora, cioè, boh, non so. Comunque commentate voi, ci sentiamo prossimamente, speriamo si sblocchino altre trattative, comunque dalla prossima settimana sarò molto più libero, quindi ci saranno molti più video, Forza Viola e JM.